Una città in festa in onore della patrona, Maria Santissima d'Alemanna. Stamani si è svolto il solenne pontificale in chiesa madre al quale hanno preso parte autorità politiche, civili, militari e numerosi fedeli. Come da tradizione il vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Rosario Gisana, ha preseduto la solenne celebrazione alla quale ha partecipato tutto il clero gelese. La festa della patrona costituisce un momento non solo di festa ma anche di rivisitazione di quello che ognuno di noi, anzitutto come discepoli del Signore ma anche come cittadini di questa città, desideriamo mettere in pratica. E' importante imparare ad assimilare una forma ed è la forma di Gesù, la forma nel senso di uno stile di vita, di un modo di relazionarsi ed è questo quello che il Signore Dio ha voluto concedere a tutti noi attraverso la Mamma Celeste. A me sempre colpisce quel particolare quando Gesù consegna al discepolo la sua madre. Questa consegna mi intriga molto perché sta a significare che nel piano redentivo di Dio la Madre Celeste è colei che indica la vera via del discepolato. All'intomani della storica sfiducia all'ormai ex sindaco Domenico Messinese alla Giunta, il vescovo ha manifestato la sua vicinanza come anche a tutta la comunità locale. Questi sono aspetti che interessano la vita civile che ovviamente dovrà in qualche modo essere motivo di riflessione sicuramente seria nel mondo politico. Al termine della liturgia il vescovo ha affidato il mandato per la missione popolare nel territorio della parrocchia della Chiesa Madre alle 150 coppie del cammino neocate comunale impartendo su di loro la solenne benedizione affinché siano come la croce segno di misericordia. L'evangelizzazione nelle vie del centro storico inizierà nei prossimi giorni.